E allora amici ben ritrovati in questo nuovissimo video, continuiamo a parlare di domotica di Smart Home e lo facciamo con EasyWiz perché mi ha mandato il nuovissimo spioncino Smart che introduce una novità finalmente direi il display touchscreen che amplifica ancora di più la funzionalità e l'accessibilità a questo prodotto Allora facciamo subito l'unboxing, andiamo a vedere cosa esce all'interno della confezione Abbiamo dinanzi il display con la staffa che andremo poi a fissare alla nostra porta una staffa molto molto resistente perché è fatta, realizzata in lega di zinco Estraendo il display della staffa ci accorgiamo subito che hanno introdotto la USB Type-C Rispetto al suo predecessore il display resta più o meno lo stesso come dimensioni perché stiamo parlando di un 4.3 pollici a colori Ovviamente questo è sottinteso ma viene introdotta finalmente anche la funzionalità touchscreen che ci consente questo anche di non utilizzare l'app o comunque non siamo obbligati ad avere per forza lo smartphone Qui c'è lo spioncino che è la parte fondamentale di questo prodotto Togliamo la plastichina che è sempre un gran piacere Spioncino che resta praticamente identico al precedente però vedo che hanno cambiato il cavetto e hanno cambiato anche il connettore Qui dietro allo spioncino abbiamo anche un adesivo 3M che ci consente appunto di fissare bene lo spioncino alla porta Spioncino che ovviamente presenta sempre la sua camera centrale e il pulsante per utilizzarlo anche come campanello Qui arrivano tutte le viti che ci servono appunto per installare lo spioncino Per fissare lo spioncino sulla nostra porta in base anche alla dimensione Si può installare da un minimo di 3 cm fino ad un massimo di 10 cm Insomma avete presente un blindato di 10 cm quindi insomma tanta roba E lo andrò ad installare nel mio nuovo studio dove ho già la predisposizione per lo spioncino E quindi questo sarà praticamente il mio spioncino smart dello studio Cos'altro arriva? Il cavetto per la ricarica e un pezzetto di plastica che probabilmente servirà qui dietro qui per nascondere i cavi E allora procediamo con la prima configurazione e vi mostro anche come si collega Vabbè molto facile Allora innanzitutto questa è la basetta che è fondamentale perché come vedete qui c'è il connettore USB Type-C che va a collegarsi poi al display Dobbiamo togliere questa plastica E' un po' forte all'inizio da togliere non vi preoccupate ma dovete insomma mettere un po' di forza per sganciarla Perché ha degli incastri e questo è il connettore per collegare la telecamera e lo spioncino esterno Diciamo finta che abbiamo installato tutto correttamente Colleghiamo lo spioncino qui sotto e colleghiamo anche il display sulla basetta Ed ecco qui è già partito praticamente Adesso ci servirà l'app di Gizwiz per raggiungere il nuovo dispositivo Facciamo sempre la scansione del QR code che troviamo qui sul manualetto che esce all'interno della confezione Ok ha trovato ovviamente il dispositivo e il dispositivo è acceso Adesso andiamo a collegare alla rete wifi qui di casa per fare appunto la prima configurazione Ecco qua facciamo qui salta facciamo uscire la schermata qui sopra qui del QR code Vi do l'accesso alla rete Benissimo non mi resta che fare fine e praticamente il dispositivo è installato come al solito Veramente facile, veloce, immediata La cosa che vi consiglio sempre è fare l'aggiornamento firmware Quindi noi facciamo subito l'aggiornamento firmware E poi iniziamo a testare e provare un po' il dispositivo Quindi vado sulle info qui vedete mi esce subito l'aggiornamento firmware E facciamolo subito La prima funzionalità sicuramente è quella di connetterci in live Quindi vista live e vedere in tempo reale cosa succede E sfruttare proprio lo spioncino come se fosse una telecamera di sorveglianza Si sente anche l'audio perché adesso lo disattivo altrimenti vi viene mal di testa Sullo spioncino qui c'è sia un microfono che un altoparlante Quindi si può instaurare anche una comunicazione bidirezionale Se andremo ad inserire una micro SD quindi una memoria all'interno del nostro display Qui avremo tutte le registrazioni dello spioncino Oppure se ci abboniamo al piano cloud di EasyWiz Avremo qui tutte le registrazioni e possiamo guardarle in remoto Qui possiamo scattare una foto quindi uno screenshot dallo spioncino Possiamo registrare un filmato in tempo reale Possiamo instaurare una chiamata Possiamo scegliere anche la definizione di trasmissione Nelle impostazioni vediamo subito modalità operativa Che come tutti gli altri prodotti a batteria di EasyWiz Ci consente di scegliere a che regime deve lavorare questo prodotto Quindi in base anche al risparmio energetico a quanto deve consumare Più saranno alte le prestazioni più consumerà batteria Quindi anche a livello di registrazioni, di rilevamenti eccetera eccetera Rilevamento intelligente come dicevo riesce a rilevare la figura umana E anche qui possiamo andare a impostare la sensibilità Altrimenti poi ci arrivano un sacco di notifiche E ci dà anche il rilevamento di stazionamento sospetto Quindi se c'è qualcuno che staziona davanti al nostro spioncino Ci manderà una notifica Se appunto vedrà qualcuno che sta lì e insomma non va via Abbiamo sia un rilevamento PIR Quindi come se fosse un sensore d'allarme classico Oppure il rilevamento figura umana che sfrutta tutta l'intelligenza artificiale eccetera eccetera Per distinguere tra ad esempio animali o persone Quindi insomma per non avere false notifiche Qui abbiamo tutte le notifiche Quindi possiamo attivare o disattivare tutte le notifiche In base a quanto vogliamo che ci stressi questo dispositivo Quindi massime notifiche Quindi notifiche audio Messaggi dal dispositivo Notifiche app di EasyWiz eccetera eccetera Poi abbiamo le impostazioni audio Anche qui possiamo scegliere varie suonerie Perché appunto questo diventa anche campanello Perché se schiaccio qui Ovviamente farà un suono tipo campanello Impostazioni d'immagine Anche qui ci sono delle varie correzioni Per quanto riguarda i colori La ripresa notturna eccetera eccetera Per quanto riguarda appunto la parte video Impostazioni luci Possiamo disattivare l'indicatore del campanello Qui ci dice ovviamente la situazione Lo stato della carica appunto della batteria E queste sono un po' tutte le varie impostazioni Info sul dispositivo Per fare l'aggiornamento firmware La rete wifi La privacy E tutti gli archivi di registrazione E il cloud play per quanto riguarda il cloud Allora vi mostro un po' l'installazione dello spioncino Che è molto semplice Perdonatemi innanzitutto per la bassa qualità Le luci un po' arrangiate La busta sulla porta Ma ovviamente non posso ancora toglierla Perché i lavori non sono ancora completati Nel nuovo studio Come vedete qui sto svitando il vecchio spioncino Ho misurato utilizzando il cartoncino Che esce in confezione Per vedere quale vite utilizzare Mi sono aiutato con un fil di ferro Un po' di nastro Per far passare all'interno della porta Il cavetto per farlo uscire dall'altro lato Altrimenti risulta un po' complicato Una volta arrivato dall'altro lato E aiutandomi con l'adesivo Che c'è dietro lo spioncino Per fissarlo alla porta Mi raccomando utilizzate un cacciavite calamitato Perché non sia mai cade dentro la porta La vite È finita Poi prendo la staffa L'ho fissata alla porta Quindi utilizzando le viti Tiro sul cavetto E lo aggancio sotto al connettore E infilo il display Una volta collegato il display Come vedete questo è un po' tutto il menu Con tutte le varie impostazioni Che sono pari come ci sono sull'app Qui le abbiamo tutte sul display Quindi possiamo fare a meno dell'app In questo caso possiamo impostare la rete Il display, il campanello La memoria Vedere la batteria L'aggiornamento di firmware Vedere tutte le registrazioni Quindi insomma veramente molto completo Qui mostro che Se busso dall'esterno Mi arriva subito La chiamata Sullo smartphone Come se fosse una chiamata vera e propria Quindi se io sono fuori casa E bussa qualcuno alla porta Io posso rispondere Allora parliamo anche un po' Di dettagli tecnici La telecamera è un sensore da 2 megapixel 1080p Full HD è la massima risoluzione Argomento batteria All'interno c'è una batteria da 4600 mAh EasyWeed ci dice che la batteria Può durare fino a 90 giorni Ovviamente qui c'è anche Un calcolo molto approssimativo Dipende poi effettivamente Dall'utilizzo che si fa Con un utilizzo medio Secondo me la batteria va ricaricata Almeno una volta al mese Per quanto riguarda il wifi È compatibile solo con la rete 2.4 GHz Quindi niente 5 GHz Come al solito per questi prodotti Vi consiglio sempre di avere un'ottima rete wifi Quando andate appunto ad installarli Vi consiglio di verificare bene Nel punto di installazione Che ci sia un'ottima rete wifi Quindi veramente una wifi piena Come qualità e ricezione appunto di segnale Altrimenti organizzatevi con un ripetitore Possiamo inserire una micro SD Fino a 512 GB Qui all'interno del display Per poter registrare e archiviare Tutto in locale Ovviamente vi ricordo le solite funzionalità Di EasyWiz Dal rilevamento delle persone Che ci consente appunto Di andare ad evitare Tutte quelle notifiche aggiuntive Magari al passaggio di animali La visione notturna Che è garantita fino a 5 metri Ovviamente in bianco e nero L'installazione come avete visto È molto facile Se già avete la predisposizione Per lo spioncino Il diametro dello spioncino È il classico diametro dello spioncino Che insomma su qualsiasi porta Che dove già è presente Quindi andrà benissimo Si adatterà benissimo Su tutte le porte È compatibile anche Con gli assistenti vocali Di Amazon e di Google Quindi se avete in casa Anche gli eco di Amazon Quelli con il display Riceverete la notifica sul display Potete direttamente rispondere Da lì al campanello O allo spioncino Quindi insomma Che funge anche da campanello In questo caso Utilizzi di questo prodotto Sono svariati Vi ripeto Dal campanello Allo spioncino smart Alla telecamera di sorveglianza Quanto costa? Beh non è economico Costa all'incirca 160 euro Però io vi lascio Il link di Amazon Qua sotto qui in descrizione Se siete interessati A visionarlo Ad acquistarlo A metterlo lì nel carrello E aspettare un'offerta Perché Ovviamente adesso siamo Nel periodo dell'anno In cui ci sono le offerte Di fine anno Il Black Friday Le offerte di Natale E EasyWiz Farà tantissime offerte Quindi tenetelo sott'occhio Inoltre se riesco Mi faccio dare anche Un codice sconto aggiuntivo In più da aggiungere Su Amazon In modo per portarlo a casa Ad un prezzo Vantaggioso Quindi Link in descrizione Di Amazon Per acquistare Per visionare Questo spioncino EasyWiz CP4 Che in questa versione È veramente migliorato Rispetto al modello precedente E assolutamente Vi consiglio di fare Uno sforzo in più Perché Ne vale assolutamente La pena Acquistare Questa nuova versione Rispetto a quella precedente Link in descrizione Di Instagram Per seguirmi su Instagram Un po' L'unico social Che ormai utilizzo Con frequenza Per restare aggiornati Su quello che combino Vi ricordo anche La pagina Patreon Link in descrizione Come sapete Patreon è una piattaforma Per sostenere i vostri creator Preferiti E lì troverete Tanti video Tanti post E contenuti esclusivi Che pubblico Solo su Patreon La cosa più importante Come sempre Tanti di voi Guardano i video Qui sul canale Ma non si iscrivono al canale Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per restare aggiornati Su tutti i video futuri Grazie alla vostra iscrizione Potrò continuare a portare video Contenuti Prodotti E tante tante cose Qui sul canale Ci vediamo nel prossimo video Ciao